Cari lettori di Terinacri News, ci troviamo a Palazzo Branciforte per la conferenza dal titolo Le missioni internazionali di pace, quale ruolo per l'Italia? Siamo qui con l'ambasciatore Stefano Stefanini, consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica e abbiamo l'opportunità di rivolgergli alcune domande. Innanzitutto, rispetto al passato, quale evoluzione ha avuto la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali? L'Italia ha continuamente rafforzato e qualificato la propria presenza internazionale dalle prime nei Balcani, le primissime delle Nazioni Unite durante tutti gli anni 60, 70, 80 fino all'impegno che c'è stato nei Balcani con la Nato, con le Nazioni Unite nell'Unifil e in varie missioni dell'Unione Europea. Quindi è un impegno sempre più costoso in termini di impegno militare e più qualificato come preparazione dei nostri militari e con una capacità specifica che abbiamo sviluppato nel campo dell'addestramento. Quali sono i motivi che spingono l'Italia ad avere sempre ruoli di primo piano nella partecipazione alle missioni internazionali di pace? Perché il nostro ruolo come Paese membro delle Nazioni Unite, uno degli scopi della Carta è il mantenimento della pace e sicurezza internazionale. Per di più è un interesse nazionale nella misura in cui molte di queste missioni avvengono in parti del mondo per noi particolarmente importanti, come i Balcani, come il Mediterraneo. E poi un impegno di solidarietà nell'Unione Europea e nella Nato. Infine facciamo bene una cosa che siamo bravi a fare. Quindi abbiamo delle capacità che ci vengono richieste dai nostri partner ed alleati. Quindi accanto alle motivazioni assolutamente nobili, quelle umanitarie, ci sono anche delle motivazioni strategiche? Ci sono sicuramente anche delle motivazioni strategiche perché oggi nel mondo un Paese conta per il contributo che può dare alla stabilità internazionale. E queste missioni, la partecipazione a queste missioni rappresenta il contributo italiano. Sappiamo che la pace ha anche dei costi. In un momento come quello attuale di crisi economica per il nostro Paese è necessaria la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace? La pace ha dei costi, ma l'insicurezza ha dei costi anche maggiori. Pensi ai costi che potrebbe aver avuto per l'Italia una ex Jugoslavia in condizioni di anarchia con tutta l'instabilità che ne sarebbe potuta determinare. Pensi a cosa rappresenta oggi per l'Italia un'Albania che è un Paese in crescita, un Paese che è diventato un partner economico importante per l'Italia rispetto all'Albania degli anni 90 che ci preoccupava con quei fussi migratori incontrollati e con traffici di ogni genere. Per cui più che un costo direi un investimento spesso. Per concludere, visto che la conferenza odierna si inquadra in un ciclo di conferenze organizzate nell'ambito dell'alta scuola di politica internazionale, quale consiglio sente di dover dare ai giovani che si accostano allo studio di questa materia? Guardarsi intorno, cercare di guardare il mondo anche con gli occhi degli altri Paesi e non soltanto con quelli italiani, viaggiare e ascoltare il più possibile quello che dicono gli altri. La ringraziamo della sua disponibilità. Buonasera.